Ho pensato di, avendo conosciuto già l'operato della sottosegretaria Zollina, di nominarla Ministra della Scuola e il Presidente della Crui, Gaetano Manfredi, vorrei nominarlo Presidente Ministro della Università e della Ricerca. Noi avevamo avvisato il Governo, guardate che il decreto dignità produce disoccupati, solo nel mese d'agosto 40.000 disoccupati in più. Adesso stiamo avvisando, certo perché non glieli rinnovavano, bisogna sapere come gira il mondo, sapere come funzionano le imprese, stare nella realtà. Posso finire? Non è entrato in vigore. De Micheli dice sapendo che a ottobre entra in vigore. Sono freddi, durissimi, ma inesorabili, sono 40.000 disoccupati in più. Teniamoci in giobacca. Inesorabili. Teniamoci in giobacca. Le 8.02, buongiorno, buona domenica mattina, benvenuti ad Omnibus. Allora nella nostra copertina ci siamo un po' divertiti, abbiamo ripreso l'annuncio del Presidente del Consiglio Conte nella conferenza stampa di fine anno di ieri e poi abbiamo mandato un brano di Omnibus dell'altro anno. Queste due parlamentari che si sono così affrontate, mettiamolo così, un anno fa in questi studi, adesso si dovranno affrontare nel Consiglio dei Ministri, speriamo in maniera più pacifica. Ma andiamo subito a presentarvi i nostri ospiti, con i quali commenteremo appunto la conferenza stampa di Conte e la politica del secondo governo Conte sinora. Alessandro Sanzoni, Cultura e Identità. Buongiorno Sanzoni. Buongiorno. Accanto a lui Pietro Paganini, professore della John Cabot University. Buongiorno. Alla mia destra Claudio Fusani, tiscali.it. Buongiorno Claudio. Buongiorno Fabio Martini, editorialista della stampa. Buongiorno. Il professor Alberto Guasco della Link Campus University. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora Fabio, partiamo da te. Senza le clausole di salvaguardia, cosa rimane a tenere insieme il governo Conte? L'antisalvinismo? Ma non più, non più, nel senso che, come dire, c'è una, al momento una buona maggioranza parlamentare che sostiene il governo e però c'è una scarsa fiducia in se stessi, una non comune idea del paese, non ci sono al momento idee particolarmente creative, ci sono due mine significative. Una è, diciamo, l'elezione in Emilia-Romagna e in particolare c'è un risultato che potrebbe determinare, accendere la miccia. Un successo a questo punto molto probabile, non probabile, di Stefano Bonaccini, l'attuale governatore, e un arretramento particolarmente sensibile dei Cinque Stelle. Il combinato disposto di questo risultato potrebbe determinare quella auto, quella implosione del Movimento Cinque Stelle che è il motivo di maggiore difficoltà del governo. Naturalmente, come dire, la coazione a resistere potrebbe alla fine prevalere e quindi l'elemento anti-Salvini, che pure c'è, che anzi il Presidente del Consiglio ha rilanciato ieri con molta forza, perché con parole molto misurate ma anche molto affilate, Conte ha indicato un identikit di Salvini particolarmente inquietante e anche abbastanza inconsueto. Cioè la Lega è buona, l'elettorato leghista è un elettorato democratico, il suo capo è tendenzialmente poco democratico. Claudio Fusani, c'è stato anche questo tentativo... Addirittura insidioso, se non sbaglio, vero Fabio, ha detto il Presidente del Consiglio, facendo proprio questa differenza tra la Lega e il suo leader. Scusami, dimmi. No, è continuato comunque il tentativo di Giuseppe Conte di prendere le distanze dall'eredità del suo primo governo, soprattutto ci sono alcuni casi giudiziari, quello che interessa anche Salvini, che incommono come una spada di Damocle. Allora, io devo dire che ieri per carità è stata una conferenza stampa, come dire, perfetta, tra virgolette, un Presidente del Consiglio molto disponibile, più di tre ore di conferenza stampa risposta a 37 domande, quindi, come dire, il massimo che un giornalista si possa aspettare, possa chiedere. Lui anche molto sorridente, insomma, perfetto. Dopodiché è chiaro che ci sono stati alcuni passaggi su cui il Presidente del Consiglio è stato, come dire, o reticente oppure non ha detto le cose come stanno. Uno di questi punti, io ne ho contati almeno tre, ma, insomma, uno di questi punti è sicuramente la nave famosa. Come sapete, tutti o più o meno sanno, il 20 di dicembre è arrivata in giunta la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di mandare a processo Salvini su questa nave. Era una nave militare italiana che tenne tra il 27 di luglio e il 31 di luglio del 2019 171 persone a largo dei porti, perché il decreto sicurezza non li faceva entrare nei porti. Ecco, su questa nave specifica il Tribunale dei Ministri ha chiesto il processo per Salvini. Ancora una volta si ripropone, come si era già riproposto per la nave 18, qualche mese prima, se è stata una scelta collegiale oppure no. Per la nave 18 fu una scelta collegiale, tutti dissero che siamo tutti colpevoli e finì niente e salvarono Salvini. Questa volta i 5 Stelle di Maio, dopo 5 secondi che era arrivato il dossier in giunta, ha detto che questa è stata una scelta individuale di Salvini, non è stata una scelta collegiale. Tutto diverso, noi voteremo a favore del processo. È una situazione abbastanza imbarazzante, perché è evidente a tutti il fatto che ieri il Presidente abbia detto sto verificando, fai i miei whatsapp, sms, mail e tutte le varie forme di comunicazione. Se io sono stato coinvolto in questa decisione, nella decisione sul tenere la nave a largo dal porto, è abbastanza, perdonatemi il termine, lo dico con tutto il rispetto, ridicolo. Perché tutti si ricordano in quei giorni che tutti sapevano tutto. Almeno due ministri del governo Conte 1, la Trenta e Toninelli, erano in forza dello stesso decreto, in essere, in quanto per quel decreto erano informati della situazione. Quindi io non ricordo che qualcuno da Palazzo Chigi aveva detto in quei giorni i fatti di sbarcare, punto e basta. E quindi è chiaro che, come dire, forse non hanno deciso loro sul momento, ma loro hanno accettato quella decisione di Salvini. Quindi in questo ha ragione Salvini nel dire che è stata comunque una scelta di governo. Ecco, su questo punto il Presidente è stato molto brillante a modo suo, ma non ha convinto, francamente. Io credo che ci sarà una sorpresa, nessuno di noi è dotato di virtù profetiche, ma il fatto che il Presidente del Consiglio abbia, diciamo, simpaticamente cincischiato sul fatto che non ha ancora controllato tutte le mail, prelude al fatto che lui in qualche modo riconoscerà una qualche consapevolezza. E d'altra parte c'è stato un passaggio che stranamente non è stato rilevato da quasi nessuno. A un certo punto ha detto, ma non è affatto detto che io sia in contraddizione con Salvini. E attenzione, quindi si prepara una missione di... Ma infatti lì si prepara, il Presidente del Consiglio, a chiedere di allungare i tempi del voto in giunta. Perché il 20 di gennaio, come tutti sanno, è una settimana prima dell'Emilia-Romagna, quindi sarebbe un momento un po' complicato da giustificare rispetto all'elettorato Emiliano-Romagnolo e anche Calabrese, ovviamente. Professor Guasco, posso sapere la sua opinione su questa vicenda, sul comportamento di Conte? A me nel complesso il discorso di Conte e poi insomma la durata stessa della conferenza stampa, la disponibilità... La breve conferenza stampa? Sì, la breve conferenza stampa. E' parso, pacato, nei toni, e questo è già un elemento da sottolineare dati i tempi che corrono, quindi in questo ho potuto apprezzare. Dall'altro, come è già stato detto in studio, mi sembra che su alcuni contenuti, in un ultimo quello della Gregoretti, sia stata piuttosto annacquata, ma mi sembra non altro che la conseguenza della particolare posizione in cui si trova Conte a presiedere il governo che è, come dire, su posizioni opposte dal governo dagli stesso preceduto fino a pochi mesi fa, non altro che la conseguenza. Pietro Paganini. Su Conte? Sì. Su Conte, io ieri sono stato nuovamente stupito da quanto bravo e democraziano... So che lei è seguito in macchina, non si è fermato alla stazione di servizio... Per ascoltare le tre ore. No, in realtà io sono sempre trasparente. Questo mi è stato detto. Ho ascoltato un'ora e mezza, poi le domande dei giornalisti, effettivamente sono sceso anche dall'auto. Però credo di aver sentito il succo. E ieri mi ha stupito nuovamente perché è stato geniale nel suo essere democristiano. Perché è un colpo di genio in un momento in cui i giornali lo attaccavano, davano il governo a casa. In realtà si è inventato questa divisione del Ministero del MIUR, del Ministero dell'Istruzione e dell'Università. L'ha spacchettato in due, ha indebolito i Cinque Stelle rifilandogli anche un ministro piuttosto debole, almeno stando alle polemiche che sono sorte. Dall'altra invece ha creato un ministero che fa contenti i miei colleghi che insegnano all'Università italiana. C'erano i precedenti, però non è che ha fatto una cosa... Era una breve precedenza, però ha spacchettato, ha dato delle idee, ha fatto contenta il tema università, l'ha rimesso al centro dell'agenda. Poi se si farà o meno questo è da vedere. Ci ha messo quello che dovrebbe essere un personaggio della società civile. Poi in realtà è un personaggio che appartiene comunque a una certa elite universitaria, baronale. Questo però lo vedremo. Io sono dell'idea che sui ministri bisogna aspettare i fatti. Inutile stare a giudicarli ora, aspettiamo i fatti. Però ieri è uscito un conte vincente. Un conte che cerca di fare il De Gasperi parlando di dialogo, di coinvolgimento. Ho detto che cerca, non ho detto che fa, che cerca di fare il De Gasperi, che cerca di coinvolgere, che cerca di fare il dialogo, che parla di due cose a mio avviso molto interessanti, cioè della politica realistica, dei fatti, non delle promesse. Quando parla poi di riforma fiscale, lì è stato molto chiaro rispetto ai governi precedenti, dice che è inutile parlare di cose che non possono essere fatte. Lo stesso quando... Poi però dà delle soluzioni che sono soluzioni a mio avviso folli, cioè quando continua a parlare di lotta all'evasione, dice che la riforma fiscale non si può fare, prima bisogna fare la lotta all'evasione. E lì significa che c'è molta debolezza. È un conte che chiaramente risponde a un governo che è estremamente debole. È un conte che ha un governo debole e che gli dà forza, perché il PD chiaramente manca di spina dorsale, i 5 Stelle sono in una fase calante, però il conte ha un'altra grande fortuna, che è l'assenza totale dell'opposizione, o di un'opposizione che non è una vera destra conservatrice, ma è un insieme di forze politiche, alcune in decadenza, penso a Forza Italia, altre che galleggiano tipo Salvini, che ha perso la sua verva, che ha perso il suo messaggio forte, e dall'altra parte però c'è un'altra grande politica che a mio avviso sta emergendo in questo momento, che è lontana dalle mie idee, che è Giorgia Meloni, perché Giorgia Meloni in questo momento sta salendo, sfruttando le debolezze di Salvini. E caso strano, a me piace questo sottolinearlo, non sono un politologo, ma mi piace sottolinearlo, sia Conte che Glameloni sono due personaggi fondamentalmente da Prima Repubblica, a livello proprio di loro statura. Però è una conferenza stampa che ci consegna un Conte forte, però poi sulle proposte concrete di ciò che andrà fatto, anche il piano per il mezzogiorno, un piano a mio avviso campato per aria, come sono stati campati per aria i piani precedenti. Quindi se andiamo a vedere i prossimi mesi, ci sono delle sfide importanti, a mio avviso il governo punta alla fine del mandato, e probabilmente riesce a arrivarci se le condizioni restano queste. Però ci vuole una sostanza politica di riforme che in questo momento non vedo. È anche vero che però tutte le sfide che il governo ha dovuto affrontare negli ultimi cinque mesi, in qualche modo compresa la legge di stabilità, non facendo il dibattito in Parlamento alla Camera, è riuscito a passarle. Adesso c'è la questione famosa prescrizione, riforma della giustizia, però se è vero che i Cinque Stelle sono vittime dei magistrati, vittime dei magistrati è anche PD. Per cui credo che alla fine riusciranno a sfangare anche... E Renzi. E anche Renzi, però come vediamo poi Renzi è l'uomo dei compromessi, e quindi arriverà anche esso a buoni e miti consigli. Allora, prima di dare la parola a Alessandro Sanzoni, voglio ricordarvi che se volete lasciare delle domande o dei interventi, c'è la pagina Facebook di Omnibus oppure l'hashtag su Twitter Omnibus, la 7, dove stanno già arrivando dei primi interventi. Alessandro Sanzoni, tu eri alla conferenza stampa, anche tu quindi 180 minuti... Sì, 180 minuti sì. Diciamo che l'impressione avuta è che Conte avesse abitato su Plutone in quest'anno, perché c'erano una serie di cose che proprio non riuscivo a comprendere. Innanzitutto, era completamente assente dalla sua ricostruzione. In fondo è la conferenza stampa di fine anno, si fa il bilancio di tutto quello che è accaduto nella fattispecie nel 2019. E Conte ha completamente glissato, per usare un eufemismo, la sua esperienza di governo fino a questo ferragosto. Il che, voglio dire, è insomma molto coraggioso... Con Cristiano. Beh, io su questa cosa che Conte sia democristiano proprio non riesco a passarci. O De Gasperiano. De Gasperiano ha detto... No, no, De Gasperiano. Ho troppo rispetto... Ragazzi, ho detto tende. Ho detto vorrebbe... Ho troppo rispetto per la storia di questo paese, della prima repubblica. Uno pugliese, l'altro. Per poter immaginare che ci sia un qualunque paragone. Però è stato didattica la sua conferenza stampa, è stato pulito. Diciamo che è stato molto... Secondo me, noi giornalisti siamo stati molto teneri in generale con lui perché era possibile incalzarlo di più, innanzitutto, su quello che era stata l'esperienza del Conte 1. Sicuramente è stata sottolineata, e l'ha fatto proprio Claudia, anche questa contraddizione in merito alla nave Gregoretti. Per di più, lui ha parlato, sì, di una serie di priorità, ma io ho sentito pronunciare da Conte la parola modello taranto, che è stata qualche cosa di esplosivo. Scusami, perché il nostro aspetto è colpa nostra. Lì è una formula tale per cui tu non puoi interromperlo quando lui ti risponde facendo il banale, chiamiamolo così. Tu non puoi dire no, scusi, ma non sta così. Però durante le tre ore ci poteva essere qualche domanda più forte, un pochettino più ficcante. Ma non è questo il problema, è un contesto istituzionale. Questo è un problema dei giornalisti. È un problema dei giornalisti, ma anche non di Conte. Insomma, quando lui ha pronunciato la parola modello taranto, come modello di sistema italiano, non so se vi siete, anche a voi, si è accapponata alla pelle, su Taranto non c'è niente da parte di questo governo, non c'è una proposta seria, non c'è un percorso individuato come via d'uscita, non soltanto dalla situazione contingente, ma anche più complessivamente da quello che è il problema ambientale e occupazionale che si è venuto a creare e che in larga parte questa maggioranza ha determinato. Poi si ricordava prima la questione appunto della riforma, a parte la riforma tributaria, non ne parliamo, eliminazione di un grado di giudizio come se questo fosse il problema, laddove invece ci richiamano i magistrati del diritto tributario alla necessità di una riforma profonda del processo tributario e non una semplice eliminazione di un grado di giudizio, quindi tutto estremamente semplificato. L'idea di poter abbassare le tasse solamente perché abbiamo la massa dei 100 miliardi di erosione fiscale, che è una cosa, una diridera che si ripete oramai da 15 anni. Però è un tema grillino. Ed è un tema grillino, benissimo. No, scusate, quello è un tema vero. A me 100 miliardi di erosione fiscale... Ma non è associabile alla questione della riduzione della pressione fiscale. Insomma, la sburogratia... Sarebbe se si riuscisse a far pagare le tasse a tutti. Poi però bisogna andare a capire esattamente che cos'è questa evosione fiscale, dove andare a recuperare... Insomma, è un tema complesso con il quale si sono confrontati, voglio dire, anche presidenti del Consiglio, con maggiore esperienza, diciamo così, di quella dell'attuale. Ora, il dato quindi è che sono state tre ore in cui è emerso poco. Si poteva anche chiudere la conferenza stampa dopo aver avuto la notizia dei due ministri che sostituivano Fioramonti. Che è anche una cosa interessante, peraltro, perché questo spacchettamento del Ministero dell'Università della Ricerca e della Scientifica rispetto alla pubblica istruzione, ecco, non è un'idea peregrina. È stata molto criticata, soprattutto dalle opposizioni, giustamente, anche perché si rileva una contraddizione, si tagliano i parlamentari, si raddoppiano i ministri, insomma, era una battuta che usciva facile. Però, andando nel merito della questione, potrebbe essere una scelta anche, come dire, condivisibile, nel senso che l'Italia è un paese che ha un grosso problema di investimenti e di individuazione di scelte strategiche nell'ambito della ricerca e anche dell'università. Non a caso si tratta di una soluzione che probabilmente è stata suggerita da una parte consistente del mondo accademico. con il combinato disposto della nascita in finanziaria dell'Agenzia Unica Nazionale per la Ricerca è evidente che è una cosa, insomma, costruita con chi si occupa di queste materie. Non a caso, appunto, c'è stato anche chi ha fatto rilevare in conferenza stampa, non ricordo chi fosse il collega, che Conte non ha resistito più di tanto alle dimissioni di Fioravonti, quasi come se avesse colto la palla al balzo e il mondo accademico aveva fatto grosse pressioni su questo governo non ritenendo che avesse agito bene nel campo della ricerca. Ora, quindi, distinguere due mondi che sono paralleli ma hanno problemi molto differenti, con filieri differenti, la pubblica istruzione e la ricerca può essere una buona idea. Naturalmente bisogna vedere che cosa si vuole fare con questa soluzione. Ricordiamo che in Italia c'è una ricerca che funziona bene per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, le piccole, come dire, la ricerca a formichina, quella che mette un tassello dopo l'altro. Viceversa, siamo deficitari dal punto di vista della ricerca a canguro, no? Come si suol dire. Cioè, quelle grandi scoperte, quei grandi brevetti, tipo la pennicillina, per fare un esempio, che permettono di fare un grande salto. Su questo, l'Italia in particolar modo è in grave gap nei confronti dei grandi competitor globali. Individuare risorse, ma anche scelte proprio a monte. Quindi, poi ti convincio? Questa cosa, per esempio, la trovo interessante. Cusani ha un'altra lettura? Sì, perché questo è il secondo punto che invece... Scusa, sui due ministeri, dici? Sì. Che ce la racconta. Allora, questa cosa di Manfredi, che come è stato detto è un'ottima scelta, sicuramente l'eccellenza accademica, è evidente, e questo era il secondo punto su cui ieri Conte è stato molto evasivo e non ha voluto stare sul tema, è evidente che non nasce oggi e che non nasce dal 23 dicembre quando l'ex ministro di... che si è andato, gli ha detto io me ne vado. Allora, questa storia nasce da lontano, tanto che un'associazione che prende tutti i dati open data dei vari bilanci e dei vari ministeri ha messo a confronto le tabelle della legge di bilancio e del disegno di legge della legge di bilancio con le tabelle uscite dal decreto del 23 dicembre ed è venuto fuori che già tra fine ottobre e prime di novembre era stato preparato, era stato creato uno split nel bilancio del ministero della pubblica istruzione che preparava alla nascita di questo nuovo ministero. Quindi anche qui Conte non ce l'ha raccontato, è giusto. E questa è una... Ripeto, questi sono open data, sono stati studiati da questa associazione che si chiama I Copernicani che hanno un database apposta per analizzare tutti i vari bilanci, tutti gli open data ed emerge questa cosa. Ora magari ci saranno delle spiegazioni io non lo so questo però dicono loro che sono esperti che emerge in maniera chiara. Allora, anche lì Conte non ce l'ha raccontata giusta su questa storia del ministro che si è dimesso perché... Parlato di merito, non di metodo. È evidente che lì, come dire, uno si dimette in polemica al governo che non ti dà soldi e vai a creare un gruppo in Parlamento filo Conte? È una contraddizione in termini. Di questo ne parliamo, ne parleremo in uno dei prossimi blocchi di Omnibus. La pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Donne e bambini che scappano dalla guerra hanno nella Romagna terra d'accoglienza, la loro terra, però ne abbiamo fatti arrivare anche troppi. Dispacciatori, scippatori, stupratori, casinisti, bari. Per quanto riguarda il tema dell'immigrazione e più in generale, io posso dire che si possono perseguire dei risultati. Questa esperienza di governo che stiamo attraversando ci fa riflettere. Innanzitutto mi sembra che nel dibattito generale non ci sia più il tema dell'immigrazione. È sparito un po' dai radar. Quindi vedete come la propaganda politica può tenere anche accese le luci dei riflettori su un tema, in modo strategico. Noi stiamo conseguendo degli ottimi risultati e per certi versi anche migliori rispetto al precedente esecutivo senza clamori. Se mi chiameranno in tribunale ci andrò a testa alta perché ho semplicemente difeso i confini, l'onore e la dignità del mio paese. Eccoci qua di nuovo in diretta. Leggiamo uno dei tanti tweet che stanno arrivando sull'hashtag Omnibus La7. Il signor Franco Tartufo lo dice in studio. Lì ad Omnibus La7 mi sembrate quattro comari che stanno ricamando sulla figura del Presidente Conte che invece si è mostrato disponibilissimo nel rispondere alle domande che voi avete posto. Perché vi lamentate? Voi avete posto le domande sia come qualità che come quantità. Fabio Martini, ero in debito con te su un'osservazione sui ministri? D'accordo però su questa osservazione nel senso che un conto è esaminare... L'osservazione però di Conte? Sì. Ok, ricordiamola, quella sull'immigrazione. No, sull'osservazione dell'ascoltatore. signor Taratufolo. No, nel senso che ovviamente il Presidente del Consiglio ha parlato per due ore e quaranta ma in questo rompendo una tradizione che invece interrompeva le conferenze stampa in anticipo. Quindi è stato disponibile e la disponibilità si trasforma in un'esibizione castrista. Io stesso ho scritto simpaticamente questo agitore. e comunque ha dimostrato una padronanza dei dossier assolutamente imprevedibile un anno e mezzo fa. Questo anno e mezzo è uno che studia che ha imparato a conoscere le regole della politica i leader i principali leader del mondo che non conosceva li ha conosciuti ne ha tratto qualche giovamento. Naturalmente ognuno può restare dell'idea fondamentale cioè che sulla natura trasformistica di un passaggio da un governo sovranista a un governo europeista nel giro di 24 ore questo resta e resterà nella storia del paese una pietra miliare magari un unicum auspicabilmente per alcuni per altri magari sono indifferenti. Prima che tu continui c'è un signore che scrive la cosa più inquietante è che dopo Conte 2 potrebbe nascere il Conte 3 che rinnega i primi due lui lo ha il signor fai vabbè ghiosso non so chi sia questo è l'unica cosa che possiamo escludere anche se la politica di questi tempi ci sconsiglia torniamo ai ministri perché ne parlavamo durante la pubblicità no c'è secondo me un'osservazione interessante cioè istintivamente chiunque pensa beh un insegnante alla scuola un docente addirittura un rettore all'università beh due competenti che cosa di meglio si possa immaginare ma un ministro oltre a essere competente può anche deve essere anche politicamente forte capace di decidere in base alle conoscenze qual è la ricetta giusta attenzione attenzione al rischio corporativo che cosa accade in alcuni regimi non so per esempio sudamericani autoritari al ministero della difesa viene chiamato il generale al ministero dell'interno un carabiniere al ministero dell'economia un imprenditore qual è il punto delicato che una persona di potere che va a guidare un ministero di cui ha competenza ma nel quale è inevitabilmente connesso con il sistema di potere dal quale esce non può essere un buon ministro naturalmente non può riformare esattamente naturalmente questo non è un giudizio sul ministro appena nominato che invece magari avrà una larga autonomia di giudizio diverso invece sia consentito è il caso della ministra all'istruzione che è Pazzolina esattamente che è una donna che ha una storia esemplare strano che i 5 stelle se ne siano accorti così tardi nel senso che è una giovane donna del sud che ha studiato ha preso due lauree si è emancipata è andata al nord ha vinto dei concorsi ha fatto la sindacalista avvocato ecco a questo punto lei non è sicuramente una diciamo non ha una competenza di potere è un insegnante ora ha vinto credo anche il concorso come dirigente la preside esatto restava in commissione di istruzione in Parlamento e quindi diciamo e oltretutto questo si abbina a una grinta che a volte diciamo qualcuno ritiene anche così l'utilizzo di aggettivi superlativi nei confronti dei suoi amici di partito ma insomma queste sono questioni di stile secondo me è molto importante questo concetto la competenza basta non basta e se è competenza di potere rischia di essere immobilismo io vorrei sentire su questo anche sui ministri i nostri due amici professori vale a dire Paganini e Guasco io sono in un'università in due università americane da prima in un'università svedese da dieci anni quindi sono scappato felicemente no 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 anzi probabilmente sono anche stato rifiutato non ho l'astio che aveva Fioramonti rispetto al suo essere stato rifiutato dall'accademia italiana mi sono andato per scelta e sono contento e da sempre da quando ho iniziato nella mia piccola esperienza esperienza politica nell'area liberale e il ricordo di Einaudi e quindi la famosa abolizione del valore legale del titolo di studio che è un mio mantra e che tutti i ministri dicono di voler abolire il valore legale del titolo di studio però poi di fronte alla burocrazia il volere della burocrazia non lo abbatte nessuno io credo che Conte ieri al di là del colpo di scena poi Claudia diceva no era una cosa già programmata al di là di quello però era necessario oggi riformulare l'organigramma dei ministeri e dei ministri l'ha fatto in piccolo già in parte l'aveva fatto Di Maio con il ministro del lavoro il ministero del sviluppo economico vari spacchettamenti va a mio avviso un governo che vuole guardare al futuro deve ripensare in toto il ruolo dei ministeri in funzione di quella che è la rivoluzione tecnologica la rivoluzione digitale e la globalizzazione ma tornando al tema ottima l'idea di spacchettare piace molto ai miei colleghi italiani sulle due figure io ieri ho letto veramente una serie di online degli insulti verso questa donna anche sulla carta stampata offensivi perché placchiamoci perché io sono per sentire il programma di entrambi e la visione che entrambi hanno sulla scuola al di là delle competenze anche perché attenzione se dovessimo valutare con lo stesso metro di misura con cui viene valutata la neoministra i membri del Parlamento i membri del governo i membri delle partecipate i membri della grande burocrazia i membri dell'industria e molti dei cittadini che la insultavano ieri non so quanti con lo stesso metro di misura non siano meglio di questa di questa donna io probabilmente sono molto distante politicamente dalle sue idee e al di là delle sue lauree non lauree degli esami passati non passati che ha vinto il concorso quando era in Parlamento che non sappia l'inglese o l'informatica questo mi interessa poco mi interessa che sappia fare le cose e soprattutto la stessa cosa di cui vuole fare l'assistente parlamentare e il concorso per assistente parlamentare sono d'accordo con te però sono per ascoltare quella che è la sua idea di scuola io da Montessoriano penso che sia molto distante dalla mia idea di scuola molto distante dalla mia idea di scuola però la vorrei ascoltare e deciderò sulla base della sua idea di scuola e su quello che andrà a fare per il momento non c'è nulla quindi è inutile stare ad insultare su Manfredi però sono d'accordo cioè Manfredi è un uomo che rappresenta probabilmente un insieme di baronato da dove viene lo stesso Conte perché Conte viene da lì viene da questo mondo universitario ora stiamo a sentire cosa il nuovo ministro ha cosa ha in programma e se riuscirà a fare le riforme che tu prima la paventavi e di cui il paese ha bisogno sulla base di quello daremo un giudizio però ad oggi dare un giudizio a priori senza saper nulla altrimenti guarda faccio una battuta che fece un convegno venne insultato quindi posso essere insultato anche oggi Steve Jobs e Bill Gates non hanno mai fatto l'università eppure hanno rivoluzionato il mondo ora non dico che questa ministra rivoluzionerà il mondo però sto dicendo semplicemente che non è se uno sa l'inglese o meno che possa o sia in grado di fare le cose vediamo quale idea ha dell'università quale idea ha della scuola e poi ne traremo le conclusioni Professor Guasco sì ma allora partendo dal principio le dimissioni di Fioramonti a ruota le nuove nomine non sono state una notizia sono state soltanto il sintomo dello stato in cui versa il nostro sistema di scolastico universitario e di ricerca bastino tre dati primi per abbandoni scolastici ultimi per numero di laureati quartultimi a livello europeo sto parlando appena prima della Bulgaria della Romania e dell'Irlanda in quanto a fondi destinati alla ricerca ed è stato anche il sintomo dell'attenzione che i ceti dirigenti danno a questo problema allora a me ha fatto venire in mente una vecchia poesia di Elliot che si chiama gli uomini vuoti che finisce con le parole il mondo non termina con uno schianto ma con un gemmito allora il futuro di un paese in questo caso il nostro sta terminando nel gemmito di una ricerca che è costretta a fare i conti con una situazione di questo tipo allora per storia personale il rettore Manfredi ha espresso già più volte posizioni molto attente riguardo a questo punto penso che ne sia avvertito penso che le sue prime dichiarazioni vadano nel senso giusto poi si tratta di vedere che cosa potrà effettivamente fare con quali fondi allora vorrei leggere io posso dire una cosa soltanto al signore che ha scritto che siamo quattro comari si riferiva a voi qua non a me siamo cinque io faccio una quinta da winzo siamo in sei molto velocemente siamo in sei nessuno sta come dire è il nostro mestiere ieri siamo stati tre ore lì ed è giusto e corretto e necessario oserei dire che ci siano dei momenti di critica rispetto a un'invasione che è andata in diretta tv diretta social eccetera ci deve essere il momento di quindi non è che facciamo le comari facciamo il nostro mestiere e questa cosa è sintomo di un atteggiamento che è molto diffuso ovvero sia le dirette social è stata fatta una domanda dei racconti su questo le dirette social per cui uno apre il microfono e parla a tutti senza un'intermediazione di un momento di critica di chi magari segue sempre le cose quindi gli viene in mente una cosa gli viene in mente un aspetto una sfumatura piuttosto che un'altra sono importanti invece questo aprire il microfono direttamente è pericoloso come infatti si vede le persone dicono siamo qua no facciamo il nostro mestiere di osservare di fare alcune osservazioni rispetto a un presidente che si è gentilmente prestato a fare una conferenza stampa nessuno lo nega questo prima di andare a Alessandra Sanzoni vorrei leggervi un tweet il signor Alessandro P che probabilmente è del 69 dice perché invitate solo giornalisti e professori universitari un'insegnante plurilaureata non c'era mai stata nel ministro della scuola in realtà ci sono stati dei rettori universitari anche dei linguisti nei precedenti governi Alessandro Sanzoni però torniamo un attimo a Salvini perché Conte ha detto le idee di Salvini sono insidiose e addirittura ha detto il 2019 si chiude con gli sbarchi dimezzati rispetto al 2018 poi qui ci sarebbe anche tutto un problema che ha sollevato Fabio Martini sul decreto sicurezza del quale poi ne parliamo però sostanzialmente ha detto qui la questione migrazione la gestisco meglio io che di te diciamo che le statistiche raccontano che nell'anno del governo Conte 1 nei mesi del governo Conte 1 c'è stato un drastico calo degli sbarchi che peraltro già era stato già si è arrabbiato con il ministro Miniti dal 2017 perché evidentemente c'era stata una revisione profonda già all'epoca della politica di accoglienza indiscriminata che viceversa si era avuta fino al 2015 2016 sostanzialmente però è un dato statisticamente oggettivo che durante i mesi del governo Conte 1 e quindi di Salvini ministro degli interni la politica dei cosiddetti porti chiusi abbia drasticamente ridotto mentre invece in questo scampolo diciamo di 2019 insomma appunto ci sono due governi anche se Conte se lo dimentica in questo scampo di 2019 statisticamente gli sbarchi pur non essendo aumentati ai livelli di qualche anno fa sono oggettivamente raddoppiati ma su cifre molto più basse di quelle che avevamo conosciuto appunto fino al 2016 però siamo 98 a 11 con i ricollocamenti non sto facendo numeri non ho detto ma i numeri sono importanti cioè fino a che c'era Salvini noi riusciamo a distribuire 11 e questo per un altro capitolo diciamo ma ieri il pacchetto di numeri che era Conte comprendeva gli sbarchi e gli ricollocamenti adesso lo sta gestendo meglio è più bravo io mi rifaccio a quello che ha detto Antonio Pulito sul Corriere della Sera che oggettivamente la politica di sicurezza e di gestione del fenomeno migratorio che c'è stata con il governo Conte 1 merita 6 e mezzo quella del governo Conte 2 invece è già cambiata già ha un attimino modificato anche la comunicazione che si fa perché anche la comunicazione che viene fatta è importante quando Conte dice i porti non sono mai stati chiusi dice chiaramente una verità perché non era possibile sigillarli ermeticamente soprattutto alle nostre navi militari ovviamente ci mancherebbe altro però gli sfugge un dato che nella gestione del fenomeno migratorio è molto importante perché un conto è se Angela Merkel dice vi accoglieremo tutti quanti e si scatena evidentemente una grossa aspettativa da parte di tutta una serie di persone che sono pronte ad emigrare dal cuore dell'Africa altra cosa è se invece il messaggio che giunge in quei territori è i porti sono chiusi è un messaggio che viene dato sia a coloro che hanno la volontà di spostarsi ma sia soprattutto a coloro che trafficano i migranti che evidentemente sanno che in quella fase non c'è più trippa per gatti questo è il senso delle posizioni prese da Salvini detto questo poi c'è da dire che Conte in questa sua volontà di dialogo ecumenico d'altronde se si parla di nulla si può essere ecumenici salvo appunto i due ministri e lo spacchettamento ecco un nemico lo deve individuare perché non è possibile in politica non avere un contraltare e continua ad averlo in Salvini è anche come dire insidiosa la distinzione che fa tra Lega e il suo leader perché cerca di inserirsi in una contraddizione anche in un conflitto che è latente per il momento ma che esiste tra la Lega storica la Lega Nord e l'attuale leader leghista Salvini quindi evidentemente Conte conosce anche gli equilibri interni di quel partito di cui lui comunque è stato espressione come presidente del consiglio per un periodo e cerca di giocarci un poco però credo che sarebbe stato più democristianamente serio non mettere assolutamente in dubbio la legittimità ad aspirare come dire a governare questo paese di Salvini che è oggettivamente un politico democratico e quindi alla domanda che io ricordo è stata precisa è legittimata la Lega e Salvini a governare questo paese e lì bisognava rispondere sì dopodiché Salvini non mi sta simpatico così era messa meglio e lui è andato a schiacciare era molto così allora a proposito di immigrazione e di possibili insidie vorrei chiedere a Claudia Fusani e a Fabio Martini vorrei farvi vedere innanzitutto un tweet un tweet che arriva da un analista che si occupa di questioni aeronautiche se la regia lo può ammettere che si chiama Babak Tagbane la notizia l'ha data lui questa mattina secondo alcuni ex piloti delle forze armate turche due Airbus 400M delle forze armate turche hanno trasferito questa mattina 250 jihadisti siriani a Istanbul da Gaziantep e in queste ore li stanno trasferendo a Tripoli utilizzando degli aeroplani e questo analista fa addirittura vedere i percorsi di questi aeroplani dice il modello e fa vedere anche addirittura le foto di alcuni jihadisti tutto questo eccolo qua vediamo un po' se riusciamo a farlo vedere i nostri potenti mezzi ce la facciamo tutto questo per dirvi cosa per dirvi che il Libia sta scoppiando potrebbe scoppiare una grossa crisi vale a dire ai primi di gennaio o meglio a partire dal 9 sta già scoppiando nel senso in attesa che arrivino i soldati turchi i turchi stanno già trasferendo delle milizie paramilitari la sostanza è questa i governi italiani spesso sono caduti su grandi eventi di politica estera questo la Libia potrebbe essere uno di questi eventi pericolosi una mina nel percorso del Conte 2 Fusani e Martini assolutamente sì perché purtroppo noi in questo governo sia il Conte 1 che il Conte 2 sulla politica estera siamo stati lo dico a mano in cuore ma è così siamo stati assenti i tentativi che abbiamo fatto di organizzare alcune conferenze sulla Libia anche quella di Conte a Palermo sono stato veramente uno spreco di energie noi avevamo una grossissima risorsa in Libia avevamo i capi dell'intelligence dell'Aise lo dico con tutto il rispetto per l'attuale capo dell'Aise che erano persone in contatto con le tribù libiche persone nate in Libia che parlavano tutti i dialetti libici avevamo un punto di contatto diretto effettivo con un mondo frantumato diviso che non si parla cioè non è uno Stato quello la Libia non è uno Stato è una somma di tribù eccetera eccetera quindi arrivato il Conte 1 devono fare cambiare tutto lo dico lo dico col massimo rispetto dell'attuale capo dell'Aise che persona sicuramente in gamba ma sulla Libia lì avevamo una competenza specifica nostra straordinaria passata quella e per l'appunto coincide mi pare novembre 2018 con la conferenza della Libia passato quello noi diventiamo come dire nonostante la Libia sia per noi un asset mi permetto di dire un asset a punto di vista economico importantissimo per le risorse per le risorse per l'Eni per tutto quello che abbiamo gli impianti che abbiamo là oltre che un pezzo di territorio che dobbiamo tenere assolutamente sotto controllo per i fatti legati ai vari flussi dei migranti eccetera abbiamo due interessi fondamentali in Libia noi siamo stati assenti ci sono state domande sulla Libia ieri in conferenza stampa Conte è stato assolutamente come dire superficiale come quasi ha risposto quasi con fastidio come se non fosse quello il tema quello è il tema la Libia è il tema dei prossimi giorni Fabio può essere una mina al momento in cui l'Italia o è tagliata fuori oppure Erdogan comincia ad avere i rubinetti dell'immigrazione come ce li ha a casa sua ce li avrebbe anche in Libia ma lì è tutta una fascia che è a rischio perché in Algeria sta accadendo qualcosa di anche altrettanto inquietante ma l'Italia ecco adesso concentrarsi solo su Conte potrebbe essere riduttivo non c'è nessuna discussione su questo intrecciando tra l'altro un rapporto con quelle tribù libiche che prima che la crisi libica diventasse incontrollabile avevano suggerito nel 2014 un mediatore possibile per la conoscenza che aveva del continente africano in Romano Prodi e il presidente del consiglio Matteo Raensi lasciò cadere inopinatamente e devo dire in modo questa possibilità poi la crisi è via via peggiorata e quindi sicuramente sì è questa notizia così dettagliata che tu hai segnalato è estremamente interessante e senza fare dell'allarmismo perché c'entra di peggio della retorica però è anche inquietante nel senso proprio pieno del termine perché un drappello di gente pronta a tutto 800 sono secondo questa analista poi sono ex combattenti giadisti non so se che si affacciano che si affacciano presi in Livia che razza di bomba ci stanno mollando lì dentro eccoli qua un terzo passeggeri perfetto scusate devo interrompere perché dobbiamo andare in pubblicità ci vediamo subito dopo la pubblicità io molto realisticamente vi dico che se non vogliamo mandare il paese in bancarotta se non vogliamo esporre il paese a una procedura di infrazione che ormai spero che sia chiaro a tutti ci farebbe molto male ci farebbe molto male allora dobbiamo lavorare in modo razionale serio e credibile l'unica prospettiva seria credibile che io ho da offrirvi è quella di combattere lottare per l'evasione fiscale contrastare l'evasione fiscale abbiamo già introdotto dato un segnale ben preciso abbiamo completato una serie di misure un pacchetto di misure che a mio avviso e a nostro avviso ci offriranno la possibilità di recuperare dall'economia sommersa delle importanti risorse finanziarie eccoci qua di un nuovo indiretta abbiamo sentito Conte sul fisco però sono in debito con Paganini sulla questione libica io mi collego quanto diceva Claudia Fusani che era corretto cioè noi abbiamo dei straordinari analisti perché l'analisi è l'analisi la presenza in Libia italiana è una presenza che è stata forte nonostante da Berlusconi in poi ci siamo fatti mettere i piedi in testa da tutti dagli inglesi dai francesi che hanno combinato questa confusione sono responsabili con l'idea che si potessero fare le primavere arabe che non è stata una follia è vero che sono tante tribù è vero che non si può fare un intervento armato perché è stato l'AISA a dire non si può entrare con un intervento armato perché sennò sarebbe peggio di una guerra civile però oggi abbiamo i russi abbiamo i turchi abbiamo queste notizie che arrivano oggi allora l'argomento e ieri Conte avete ragione è stato debolissimo su questo perché ha detto rimando all'Europa l'Europa fino ad oggi non ha fatto nulla sulla Libia rimando a Berlino agli incontri con la Merkel cioè è un rimandare e non fare nulla il problema è che a questo punto si deve prendere una decisione e probabilmente io sono contrario a una decisione per natura non violenta a una decisione di forza però a questo punto non possiamo dire dialoghiamo facciamo dialogare le tribù e non ci imponiamo in qualche modo con una qualche forma quasi di coercizione cioè in Libia bisogna prendere una decisione netta oggi perché altrimenti come avete detto la situazione è esplosiva per cui è vero far dialogare le tribù ma se non si forza il dialogo alla fine abbiamo avuto una comunità internazionale che un po' è andata con quelli che stavano a Tripoli un po' è andata con quelli che stavano con il generale Raffa come si chiama Aftar mi sfugge sempre è impronunciato Aftar e Serrage che poi sono il vero problema della questione esatto però abbiamo avuto una comunità internazionale che è andata una da una parte una dall'altra e di nuovo la debolezza oggi di una leadership non solo italiana ma anche di una leadership internazionale poi salto al fisco proprio sì sì perché questa cosa di Conte questa cosa di Conte sul fisco di ieri è imbarazzante cioè è stato bravissimo nel dire e realistico nel dire io non posso fare altro perché non si può immaginare una tassa piatta come diceva Salvini o fare una tassa piatta e stenderla a tutti perché non ci sono le risorse per farlo perché abbiamo i conti sotto controllo giustamente da parte dell'Europa però poi pensare di non riformare il sistema tributario il sistema fiscale e di farlo solo come conseguenza della lotta all'evasione dei famosi 100 miliardi io sono d'accordo che devono pagare tutti ma la ragione è come si fa a far pagare tutti quando è un sistema fiscale tributario è un sistema fiscale tributario ostile ai cittadini io la vedo al contrario di Conte non voglio dire lavoro nero lavoro vero però voglio anche ricordare che in questo paese se non ci fosse stato il lavoro sotto banco durante il periodo 2008-2018 sto dicendo parole forti questo paese sarebbe crollato perché con una disoccupazione soprattutto al sud così alta è inspiegabile come l'economia abbia potuto sopravvivere quindi prima di dire lotta all'evasione sarebbe meglio riformulare il fisco per fare un fisco che non sia ostile ai cittadini che non perseguiti i cittadini perché come dicevi tu la proposta di Conte ieri dei due gradi di giudizio è ridicola il cittadino vuole pagare le tasse ma le vuole pagare in modo semplice e se sbaglia una virgola non vuole avere la guardia di finanza dentro l'ufficio che gli blocca la produzione vuole pagare le tasse come si fa nel resto d'Europa nel resto d'Europa in modo semplice perché in Europa anche i bambini possono pagare le tasse in Italia no è tutta una detrazione uno sconto uno sconto fiscale adesso abbiamo le detrazioni per chi fa chi ristruttura le case ma solo nelle città e i contadini e chi vive fuori dalle città chi è un cretino cioè si vive costantemente di questo deroghe contro deroghe abbatto fanno felici i commercialisti ma rendono il cittadino stupido e ieri mi stupisce adesso mi accusavano di non essere un difensore del nord però mi stupisce che i tradizionali partiti del nord stiano zitti di fronte a questo atteggiamento che è di nuovo un atteggiamento ostile ai cittadini è ostile agli imprenditori è ostile a coloro i quali alla fine del mese devono pagare l'IVA devono pagare l'IRP devono pagare tutto questo insieme di tasse e il ritorno che hanno è vicino allo zero io sono evidentemente d'accordo prima ancora che essere ostile ai cittadini in generale è ostile questo sistema fiscale che oggi noi abbiamo in Italia ma proprio tutto l'impianto al netto della questione evasione fiscale ai produttori a coloro che producono ricchezza e che lavorano che sono ladri sì io parlo sia degli imprenditori che dei lavoratori in generale insomma c'è di tutto quella mosaico di figure sociali non ultime diciamo quelle dei professionisti dei lavoratori autonomi delle partite IVA e quant'altro che in qualche modo sono per la loro condizione costretti a lavorare e a produrre e che spesso e volentieri non possono godere fino in fondo dei frutti del proprio lavoro aggiungo anche che la questione dei 100 miliardi del fisco dei 100 miliardi dell'evasione dell'evasione fiscale che sarebbe disponibile da aggredire dimentica secondo me ogni volta che viene evocata che esiste nell'economia moderna di mercato anche un'evasione fiscale fisiologica che è presente in qualunque paese e un po' più alta e soprattutto nei paesi ad alto tasso manifatturiero non a caso anche in Germania c'è un'evasione fiscale che è molto più alta di quella che normalmente viene raccontata sui giornali magari in termini statistico percentuali non è così forte come in Italia anche perché in Italia c'è il problema del mezzogiorno che dicevamo prima che ha più vaste aree e sacche di nero ma se esiste anche in Germania un'altissima evasione fiscale in termini assoluti e in termini relativi ed esiste naturalmente in tutti i paesi europei e in particolar modo in quelli che hanno un maggiore valore manifatturiero non a caso è meno forte in paesi come la Francia e l'Inghilterra che sono paesi più finanziarizzati e in particolar modo la Francia dove la spesa sociale poi insomma interviene e l'impiego pubblico ha un ruolo molto molto forte quindi non è pensabile di sistemare i conti italiani dicendoci abbiamo 100 miliardi se li recuperiamo stiamo a posto perché saliamo il debito chiudo dicendo anche come dire una parola sulla questione libica anche io perché insomma occupandomi ogni tanto mi fa piacere fare un'osservazione credo che la situazione peraltro già descritta da tutti quanti i colleghi nel passato e nel presente sia degenerata davvero in questo ultimo anno e mezzo di Conte 1 Conte Bis e in particolar modo negli ultimi mesi c'è stata una disattenzione completa se un paese non ci mette testa un paese come l'Italia non mette testa su un territorio come la Libia che non è soltanto il luogo dove noi ci approvvigioniamo attraverso l'Eni non è soltanto il luogo dove dobbiamo gestire i nostri flussi migratori è piaccia o non piaccia è un'espressione che noi dobbiamo usare è l'orto di casa e sulla situazione libica l'Italia deve esercitare la propria capacità di influenza per non perdere il proprio rango di potenza regionale e su questo noi oggi come oggi abbiamo la necessità per dare delle risposte di essere in grado di tirarci dietro tutta l'Unione Europea che non può continuare a scavalcarci almeno alcuni singoli stati come la Francia e come l'Inghilterra anche perché scavalcandoci non hanno assolutamente conseguito risultati soddisfacenti neanche loro però è chiaro che il nostro Presidente del Consiglio e il nostro Ministro degli Esteri ci devono mettere testa politica prestare più attenzione a un tema del genere che alle diatribe interne Allora Fusani poi con il Sorguasco Per quello che riguarda il fisco però attenzione perché non siamo in questo senso spezzo una lancia a favore di Conte perché il discorso sul fisco lui l'ha fatto inserito in un contesto più ampio che parla di semplificazione e non si può prescindere dal discorso sulla semplificazione che Conte ha fatto in apertura a quella domanda ovvero sia quello è fondamentale lui ha detto comunque lui ha parlato di questa agenda 2023 dove al centro ci sono tutta una serie di riforme la prima riforma di cui l'ha parlato è la semplificazione della burocrazia e di tutto il resto quindi quello che voi avete detto che è vero però bisogna ricollegarlo anche a un contesto di semplificazione a cui io voglio e devo credere perché se questa allora sono anni che parliamo di riforme ci hanno provato tutti il primo che doveva farle era stato Silvio Berlusconi e ha sprecato l'occasione della vita perché invece di occuparsi dei suoi processi doveva fare la rivoluzione liberale e probabilmente saremmo ancora lì con Berlusconi al governo non l'ha fatto tutti sono caduti su questa cosa chi per un motivo chi per un altro è l'ultima chiamata per noi adesso fare queste riforme e la semplificazione è la base di tutto alla base del sistema fiscale alla base della nostra vita quotidiana e anche di quello che è il sistema produttivo la CGA di Mestre ha stimato in 31 miliardi il costo della burocrazia quindi 31 miliardi è il valore di una manovra quindi pensate le aziende quanto ci guadagnerebbero da un mondo semplificato lui ha detto e questo mi è piaciuto quando ha parlato di semplificazione ma ha detto prima dobbiamo fare la lotta all'evasione io sarei per il contrario su Berlusconi ha detto prima la semplificazione e poi la lotta all'evasione ha detto prima la semplificazione e poi la lotta all'evasione perché su Berlusconi hai ragione però l'errore che è stato fatto e a Conte questo ha dato ragione che il primo obiettivo non è necessariamente la riduzione del peso fiscale ma è il tema della semplificazione Berlusconi e Salvini stesso hanno sempre parlato di ridurre il peso fiscale se andiamo a vedere le grandi aziende ma in parte anche le piccole pongono come obiettivo non quello della riduzione fiscale per stare presenti in un paese non è il peso fiscale che chiaramente è importante perché se no uno va anche in un paradiso fiscale ma è la modalità con cui vengono pagate le tasse quindi è su questo che il governo dovrebbe insistere io mi auguro che prima riesca a semplificare piuttosto che fare la guerra all'evasione prima la semplificazione ha parlato di aliquido i due flash il primo dico anche la mia sulla Libia io mi chiedo che cosa ci aspettavamo di diverso l'ha detto ieri Lucio Caracciolo proprio in questa trasmissione in un vuoto di potere si inseriscono altre potenze Putin per primo Erdogan per secondo così riportando la Turchia in Libia dal 1912 secondo se ci aspettavamo qualcosa di diverso nelle modalità in cui vengono combattute le guerre oggi la Siria insegna terzo questo ci dice anche che a livello di politica internazionale noi contiamo come il 2 di picche quando la briscola è il cuori e questo alla faccia di una tradizione nostra di politica estera in particolare in Libia laddove non devo ricordare i nomi di Mattei di Andreotti di Moro e degli accordi con la Fiat ho citato tre democristiani li ho citati a proposito quindi su Conte lascerei stare non De Gasperi non De Gasperi no ma neanche gli altri e forse l'unica cosa che si può dire del Conte di ieri è che riusciva a parlare tre ore come il Forlani del CAF senza dire nulla ecco questo è l'unico paragone che mi può venire in mente sulla questione dell'evasione fiscale un problema che ci trasciniamo dietro da anni che incrocia due dimensioni primo il fatto che lo Stato parte considerando il cittadino imprenditore quasi come un evasore e dall'altro c'è una larga parte di questo paese che le tasse non le vuole pagare quando si riuscirà a comporre queste due componenti a dare un po' di fiato a quel ceto medio e non solo che sta vivendo da dieci anni a questa parte quindi dall'esplosione della bolla dei subprime le conseguenze economiche di un dopoguerra senza che ci sia stata una guerra effettiva avremmo già fatto un passo avanti senza contare e così allargo il campo delle possibilità a che cosa il governo si trova sul tavolo 159 crisi industriali aperte e quelle non se ne vanno dallo ieri al domani e quelle sono 300.000 posti di lavoro in pericolo giusto per completare il pacchetto che si aggiunge alla strettoia di gennaio Fabio Martini per farci capire chi è a casa un dato come dire semplice oramai lo Stato dispone di tutti i dati possibili è sufficiente incrociarli in modo penetrante per risolvere quasi che si chiama serpico la banca dati è un nome quasi ala radice il problema se finora questo problema non è stato affrontato con la sufficiente energie è per da una parte mancanza di volontà politica di incidere su alcune fasce di evasione e l'altro è un motivo invece che è stato evocato qui questa giungla normativa e al tempo stesso l'idea di lasciare un po' di ossigeno alle imprese anche in fasi in cui sono in difficoltà ecco però di questo stiamo parlando se lo Stato vuole risolve quasi alla radice il problema ma chi è che non vuole questa è la domanda il grande fratello fiscale c'è chi è che non vuole tutti nessuno nessuno vuole risolvere nessuna forza politica che ha un riferimento sociale alle proprie spalle vuole risolvere in modo ma per problemi secondo te di lobby o di consenso elettorale entrambe perché ad esempio uno pensa il partito democratico sia pure ridotto elettoralmente è stato per anni il punto di riferimento del lavoro dipendente sia esso statale che diciamo operaio oggi questo un po' meno però nelle tre regioni cosiddette rosse invece il partito comunista prima e il partito democratico in parte dopo è stato il punto di riferimento invece di una tessuto di piccola imprenditoria artigianale cooperativa che ovviamente avrebbe qualcosa da rimetterci diciamo rispetto a un'azione molto penetrante qui non si tratta di dare noi delle indicazioni delle ricette però se dobbiamo dare delle chiavi di lettura dobbiamo anche riconoscere che e concludo con una battuta invece sdrammatizzante voi avete mandato quel contributo quel filmato in cui Sconte diceva bisogna lottare per l'evasione fiscale allora no ecco è una battuta sdrammatizzante chi crede nella lettura freudiana dei lapsus che sono le espressioni in desiderio evidentemente conferma la mia tesi allora prima di andare in pubblicità leggiamo un tweet uno dei tanti che stanno arrivando sull'hashtag omnibus la 7 il signor Fulvio Rebora che scrive spesso se non ricordo male non sono le riforme che servono per gli evasori sono i controlli continui e la galera quando li scoprono basta perdere tempo con riforme non servono contro gli evasori date più personale e mezzi alla guardia di finanza che possa aumentare i controlli qualche istante di pubblicità e ci vediamo subito dopo in questo momento una frammentazione delle forze politiche che sostengono la maggioranza non fa bene eppure all'azione di governo quindi il mio invito a tutti i parlamentari ed è normale che nell'ambito di una forza politica ci possono essere delle posizioni critiche articolate ecco se hanno delle manifestazioni critiche queste manifestazioni le come dire debbono alimentare l'invito ad alimentare il dibattito interno alla singola forza politica sicuramente nessuno può pensare siccome sui giornali ogni giorno si alimenta questa permettetemi a questo punto di dire retorica di un partito contiano io non ho velletà di avere un partito o un gruppo di riferimento non è nelle mie corde e sarebbe una missione completamente diversa a quella che ho assunto di fronte ai cittadini italiani Claudia Fusani cosa rischia Conte se i 5 Stelle si scendano? Allora il tema dei 5 Stelle è il vero problema come ha detto Fabio Mattini prima è il vero problema di questo governo lì dentro sta succedendo un po' di tutto non è un caso se il 23 di dicembre il giorno in cui si votò la manovra e il giorno ancora ancora in cui non si sapeva delle dimissioni di Fioramonti qualcuno dei 5 Stelle diceva ma insomma qui andremo a chiudere tutto e a rinascere con due partiti diversi con due formazioni diverse una verde ed ecologista che è questo movimento che farebbe capo all'ex ministro all'ex ministro e un'altra più social liberale insomma una cosa allora quindi lasciamo perdere questo Conte ieri ha detto chiaramente fermate tutte però fermare tutto lo vedo un po' problematico perché il problema lì sono vari problemi c'è un problema che si chiama Di Maio la cui leadership non è più riconosciuta lui si sforza si inventa il dream team i facilitatori però è come cioè in politica quando ci sono le fasi quando la fase è finita è finita poi magari ritorna ma deve passare del tempo ti deve far rimpiangere non lo so ma insomma la fase di Di Maio è finita e lui su questo deve fare i conti su questa cosa e non li sta facendo non li sta facendo perché non c'è un'alternativa cioè la domanda è se ci fosse un altro leader un altro capo politico cambierebbero le cose io credo che cambierebbero e li avrebbero i capi politici per esempio il ministro del Mise per lo sviluppo economico sarebbe una persona che viene riconosciuta da tutti perché poi dal capo politico discende quello che succede sotto sotto c'è uno scontento allora lì si sta scatenando al netto delle brave persone che ci sono però ci sono anche una serie di persone che sono molto ambiziose il che non è un difetto è umano però in nome dell'ambizione possono far di tutto il fatto che sia stata scelta la Zolina e non altri di cui è stato fatto il nome in questi giorni e il fatto che il ministero sia stato spacchettato e quindi diviso in due e una parte finita a un tecnico che si dice essere in quota PD crea ulteriori problemi all'interno del movimento che infatti ieri si sono tutti preoccupati i vari tweet ah in questo modo abbiamo meno potere abbiamo perso la maggioranza dei ministri in consiglio dei ministri quindi c'è una situazione lì che io non so come si possa riprendere in mano francamente non so se Fioramonti andrà avanti con il suo progetto di fare un gruppo in Parlamento mi risulta e poi mi taccio che comunque Fioramonti stia trattando già da mesi da fine ottobre a Bruxelles con i Verdi europei perché i 5 Stelle europei vogliono entrare dentro i Verdi a Bruxelles all'interno della famiglia verde a Bruxelles e quindi vedrebbero e i Verdi europei si stanno assumendo informazioni su Fioramonti su questa sua formazione politica se sarà veramente una formazione ecologista aggiungo anche che tra i nomi delle persone che si sono fatte in queste ore e che andrebbero a formare questo nuovo gruppo ci sono anche nomi di buona eccellenza tipo? mi riferisco alla Rossella Moroni che sta in Liberi Uguali ex presidente di Lega Ambiente persona molto in gamba su tutte quelle che sono le varie tematiche ambientali persona che probabilmente poteva veramente fare il ministro dell'ambiente ovviamente è passata in cavalleria in base a tutta una serie di scelte che hanno poche a che fare col merito mi risulta che anche Fusacchia di più Europa sia stato contattato o stia pensando a non è un mistero che Stefano Fassina in questi giorni abbia fatto dichiarazioni di simpatia rispetto al progetto dell'ex ministro quindi vediamo che cosa avviene fuori però sicuramente se nasce questa cosa di Fioramonti è un indebolimento grosso per il momento di 5 Stelle è come un bomba libera tutti e per il governo non lo so ecco perché su questo Conti è restato molto diretto l'unica cosa su cui è stato veramente diretto la domanda che ho fatto a Claudio Fusani è cosa rischia Conti se i 5 Stelle si scindono l'implosione dei 5 Stelle è nell'ordine delle cose avverrà prima o poi bisogna capire in forma quanto ordinata credo che Di Maio abbia perso il momento giusto per guidarla lui e pilotarla lui una scissione probabilmente avrebbe potuto creare diciamo semplificare il quadro portandosi dietro i suoi parlamentari più orientati verso destra e lasciando a figo invece quelli che erano più orientati a soluzioni di sinistra forse quando c'è stata la crisi di Ferragosto un altro leader più coraggioso e con maggiore futuro quindi l'avrebbe fatto oggi ha perso probabilmente l'ultimo treno che poteva cogliere riguardo a quanto ha detto Conte ieri invece in conferenza stampa io mi permetto di dubitare che lui non abbia come dire l'intenzione di creare un suo mondo parlamentare e soggetto politico di riferimento ma non ci sta provando ma non credo che sia Fioramonti come dire e il suo e la sua visione diciamo ideologica mamma mia che cosa sto dicendo a interessarlo nel senso che Conte è più orientato io credo piuttosto che ha una soluzione verde ecologista insomma sarebbero due partiti che nascerebbero dalle sceneri del momento quindi Conte sarebbe più orientato a recuperare come dire tutti quei parlamentari che hanno anche una matrice familiare democristiana eletti soprattutto nelle aree interne del sud e che quindi di là abbiamo veramente il notario della DC di matrice familiare democristiana purtroppo nelle aree interne del sud c'è stato uno spostamento significativo di gruppi moderati sui 5 stelle nell'ultima elezione politica quindi credo che Conte ambierebbe più a fare appunto qualche cosa del genere però si rende anche conto che è una cosa insomma pericolosa per la tenuta del governo io credo che questo governo più che cadere però o problemi seri come la Libia e l'Ilva o per grossi smottamenti può cadere sulla famosa buccia di banana imprevedibile insomma qualche improvvisa levata di testa di qualche parlamentare e su qualche cosa oggi imponderabile che determina poi lo sconquasso all'ultimo insomma ingestibile e lo scilipoti di turno lo scilipoti di turno insomma quello che sarà certo è però che eravamo partiti con due gruppi parlamentari PD e 5 Stelle le richieste di Mattarella di avere un governo che avesse una maggioranza politica chiara e ben definita perché solo così si potevano andare al voto e oggi diciamo già abbiamo insomma 4 4 diverse formule di sinistra dopo la scissione di Renzi e vediamo che cosa succederà adesso con i 5 Stelle perché là dentro ne possiamo fare pure 20 decisioni sono tanti sono tanti parlamentari e quindi c'è spazio insomma Paganini e poi sentiamo mi interessa devo dire è piacevole sentire cosa succederà nei 5 Stelle ma credo che poi dobbiamo rimanere aderenti ai fatti sono arrivati ormai fino al 31 dicembre governano prima con la Lega oggi con il PD perdono pezzi ma qui sono perché effettivamente hanno colto quelle che erano le necessità dei cittadini cioè la volontà e la voglia di cambiare di mettere in crisi un sistema elitario sia nei media sia finanziario sia della burocrazia ieri Conte una cosa importante mi avviso l'ha detta è quella di semplificare ma ha detto anche mandare a casa una certa burocrazia poi come lo farà non lo so sapendo che lui in parte è molto legato a questo mondo delle elite burocratiche però quello che manca in tutta questa discussione al di là del calciomercato e chi va e chi viene è le idee 5 Stelle sono arrivati con una serie di idee molte discutibili molte che io non condivido alcune rivoluzionari avevano in mano la più grande riforma del welfare degli ultimi 50 anni che è il reddito universale o il reddito di cittadinanza poi ne hanno fatto una schifezza poi il presidente dell'Inps dice che hanno eliminato la povertà del 60% su dei numeri a casaccio però avevano in mano un grande strumento poi non sono riusciti e oggi non essere riusciti pagano quelle conseguenze anche come hanno affrontato certe crisi bancarie l'aver messo in discussione lo strapotere di autostrade su questo ci sono dei meriti che vanno riconosciuti nell'aver identificato il problema lo stesso va fatto con Salvini su molte questioni e poi non sono in grado di risolverli non hanno la sostanza sul reddito di cittadinanza i 5 Stelle avevano dietro fiori e fiori di professori che avevano idee di cambiamento e poi li hanno abbandonati tutti per preferire un marxista stalinista di fondo e oggi che sarebbe? Tridico oggi di fondo io vorrei sentire dai 5 Stelle come dallo stesso Conte al di là delle parole l'essere più o meno democristiano ma è un'idea del domani Conte dice ci ritroviamo adesso faremo un nuovo 20 punti un nuovo programma lo stesso dice Di Maio io vorrei sentire queste cose c'era un contratto di governo Lega 5 Stelle vorrei avere un contratto di governo di punti che questi signori nei prossimi hanno appunto ma andranno a realizzare nei prossimi mesi chiaro poi si può andare nei verdi nei liberali Renzi vuole andare nei liberali questi nei verdi però mi dicano che idee hanno quando all'inizio si è parlato il collega ha parlato di un elemento fondamentale cioè il fatto che è un paese dove la scuola non è al centro questo dovrebbe essere un paese in cui la scuola è al centro dello sviluppo del futuro non solo le pensioni la scuola i bambini i ragazzi facciamo pochi figli perché si fanno pochi figli questi dovrebbero essere argomenti su cui ci si fonda visto che amiamo oggi parlare di democrazia cristiana io credo che una puntata futura vada fatta su quella che è stata la politica la DC il Pli il PC il PSI il PSD eccetera allora c'erano delle idee di fondo discutibili piacevoli o meno oggi non ci sono però bisogna ritornare a delle idee perché se non si hanno le idee non si va da nessuna parte inutile dire andiamo a risolvere in Libia ricostruiamo l'Europa l'Europa che domina e che fa competizione con gli Stati Uniti e la Russia se non ci sono queste idee la classe dirigente e su questo concordo con il collega è una classe dirigente debole non si va da nessuna altra parte vorrei sentire velocemente Guasco perché siamo veramente in chiusura le chiedo una capacità di sintesi pazzesca come solo un democristiano saprebbe fare ha detto io per il momento non ho velleità il che vuol dire che si sta aprendo la grande corsa verso il centro ci sarà lui ci sarà Renzi ci sarà la Carfagna forse ci saranno più partiti che ancora non esistono questo nello smottamento dei 5 Stelle prevedibile anche se era Groucho Marx che diceva che le previsioni sono difficili specie quelle riguardanti al futuro il tutto in un contesto in cui i 5 Stelle potranno frammentarsi in ben di più che due parti sono stato molto democristiano è stato democristiano e di una capacità di sintesi pazzesca vorrei ringraziare Alberto Guasco professore all'In Campus Pietro Paganini della John Kebbott University i colleghi Claudia Fusani Tiskele.it Fabio Martini della Stampa Alessandro Sanzoni di Cultura e di Identità la programmazione è continua c'è il TG delle 13 e 30 il TG delle 20 condotto da Francesca Fanuele tutti gli aggiornamenti li potete trovare sul nostro sito www.tgla7.it ma soprattutto questa è l'ultima puntata di Omnibus dell'anno quindi permettete a tutti noi giornalisti produttori tecnici tutte le persone che lavorano a questo programma e che non vedete perché stanno dietro le quinte di farvi gli auguri di buon anno facciamo anche gli auguri alla nostra collega Matilde perché possa ritornare presto tra di noi al lavoro e che dire buon anno buon 2020 Omnibus torna il 2 gennaio con Alessandra Sardoni a tutti voi di nuovo buone feste auguri auguri buon anno 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 buon anno